Anche in questa estate torrida in Abruzzo si registra un considerevole aumento di presenze turistiche sia lungo la costa che nelle zone interne e sono sempre di più i turisti che scelgono le aree protette per trascorrere le vacanze a contatto con la natura in luoghi dove è più facile garantire il distanziamento imposto dall'emergenza coronavirus. Il presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, spiega che c'è un cambio di passo ed è un trend che cresce già da qualche anno. Però abbiamo qualcosa in più perché da qualche mese abbiamo la dichiarazione come Geoparco Unesco. Siamo uno dei 165 geoparchi mondiali e quindi ci sono persone che vengono molto lontano per capire non solo questa particolarità geologica della nostra montagna che è veramente molto interessante ma anche e soprattutto direi, questo è il messaggio che dovrebbe passare un po' anche per i nostri concittadini, per capire come si sia associata storicamente la presenza dell'uomo con questa particolarità geologica, materiale della montagna. Bilancio positivo anche per le aree gestite dal BOSSO, una società cooperativa che da oltre 20 anni opera in Abruzzo nel settore dell'ambiente con l'obiettivo di diffondere la sensibilità ecologica, come spiega il presidente Cristian Moscone. Sicuramente quest'anno diciamo si è mantenuto il livello che era esploso l'anno scorso di questa presenza turistica sia nelle aree interne dove noi operiamo ma anche nelle aree diciamo costiere perché comunque facciamo delle attività sia nella zona di Ortona con il kayak e le bike ma anche nella zona di Fossecese arrivando fino giù a Vasto e comunque si registrano diverse presenze soprattutto di turisti italiani sono ancora pochi i turisti diciamo stranieri almeno rispetto all'epoca pre-covid quindi ci auspichiamo che nei prossimi anni con il ritorno anche di questi turisti stranieri insomma avremo una buona presenza diciamo il turismo può davvero diventare un settore che dà veramente tanto lavoro qui in Abruzzo.